Io sono molto contento della decisione del Santo Padre Francesco di riconoscere la morte martiriale di Padre Sandro. Lei ha potuto vedere come tanta gente lo riconosce come martire, come martire. Il 5 dicembre ci sarà una grande celebrazione qui a Cimbote e verranno tutti i Vescovi del Perù, della Polonia e anche d'Italia per celebrare questo magno accontestimento della beatificazione di Sandro, di Mighelli e di Svignie i due sacerdoti francescani e polachi che furono ammazzati da Sendero Luminoso l'anno 1991. Dopo 24 anni è riconosciuta la morte di tre sacerdoti come una morte martiriale. Allora la Santa Sede, la Chiesa riconosce che questi tre sacerdoti sono beati.